A Salerno c'era un vero e proprio cartello per la gestione del servizio di manutenzione del verde animato dalle cooperative collegate a Vittorio Zoccola e quanto ricostruito dalla procura che ha notificato l'avviso di chiusura indagini a carico di 20 persone tra imprenditori e dipendenti del municipio. Nel mirino i rapporti tra i vertici delle cooperative e l'amministrazione, un regime di monopolio di fatto per l'affidamento pilotato degli appalti, il trade union negli uffici di palazzo di città secondo la procura, il dirigente Caselli. In bilico invece la posizione di Vincenzo De Luca, il sindaco Napoli e degli altri funzionari chiamati in ballo dalle intercettazioni. Per loro nessun avviso di conclusione indagini. Gli scenari investigativi sono ancora da definire. Il sindaco non si sbottona ma esprime comunque fiducia nel lavoro degli inquirenti. Le considerazioni che faccio le tengo nel cuor mio. Per mia abitudine e consolidato atteggiamento non commento le inchieste in corso per rispetto della magistratura e eventualmente anche degli indagati. Le carte si commentano da solo e quando ci sarà l'esito di questi ragionamenti faremo le nostre riflessioni. Per l'avvocato e consigliere di opposizione Michele Sarno il lavoro della procura è fondamentale perché risponde alla necessità di tutelare la legalità a Salerno. Sicuramente la dimostrazione che la procura della Repubblica capeggiata dal procuratore capo Borrelli, persona di altissimo profilo e di grande qualità, va avanti, dà una risposta ai cittadini e dimostra che le istituzioni vogliono fare chiarezza su dei meccanismi che riflettono i loro effetti sulla vita dei nostri concittadini.